Hanno usato più la gomma che la matita, hanno tolto progetti che loro stessi avevano annunciato in Pompamagna come la rotatoria di via Fiorentina e la ristrutturazione della zona di Campo Marte. L'opposizione in Consiglio Comunale passa all'attacco della Giunta Ghinella in vista del prossimo Consiglio Comunale. Le uniche cose che ha annunciato in questi nove mesi erano alcune opere pubbliche importanti, il parcheggio a Campo Marte, il rifacimento dei piazzali della stazione, la rotatoria fiorentina. Annunciate in Pompamagna sui media locali, scomparsi poi negli atti reali, quelli che impegnano risorse e impegnano l'amministrazione a realizzare. Nel piano triennale, nel relativo bilancio, non c'è nemmeno mezza opera pubblica nelle nostre frazioni. Cosa intendiamo fare in quelli che stanno sempre di più diventando dei dormitori e soprattutto, penso anche al tema delle sagre, squalificati anche dal punto di vista delle possibilità di socializzazione dei residenti che li abitano? Hanno presentato atti importanti come bilancio preventivo, come il piano triennale opere pubbliche e dopo nove mesi di amministrazione, in cui abbiamo visto poco, siamo preoccupati perché è un bilancio, potremmo dire, modesto di condominio, nel senso che non sono state trovate risorse aggiuntive. Rischiamo l'amministrazione di perdere addirittura risorse regionali, non sono state trovate risorse da fondi europei. Nel settore cultura non ci sono né progetti né soldi e anche nel turismo purtroppo non c'è un incremento del capitolo. Un anno importante, il 2016 per la nostra città, l'anno del giubileo, insomma, molte altre città stanno facendo importanti progetti investimenti. Non c'è dato sapere in questo momento quello che ha intenzione l'amministrazione, ma essendo quasi a marzo, credo che quando lo decideranno sarà troppo tardi.